Applicare questa miscela sulle gambe aiuterà a eliminare le vene varicose rapidamente. Le vene varicose appaiono in molte batti del corpo, ma sono spesso più evidenti nelle gambe e se non vengono trattate, le vene si ingrandiranno, si scurriranno e si diffondono che sembra molto scradevole, perciò ancora porteranno a dermatite, ulcere varicose, persino sanguinamento. Pertanto, il migliore è quello di eliminare le vene varicose il più presto possibile, al fine di prevenire problemi di salute più gravi. Oggi ci sono un sacco di farmaci e cosmetici disponibili che sottengono che possono eliminare completamente le vene varicose. Tuttavia, molti di loro sono molto costosi e non sempre forniscono i risultati. Pertanto, oggi vi mostrerò un rimedio topico che vi aiuterà a migliorare la cipulazione e eliminare le vene varicose rapidamente. È davvero facile da fare e hai solo bisogno di due ingrandi naturali nella vostra cucina. Dal momento che è naturale, quindi ti aiuta a eliminare le vene varicose in modo efficace senza effetti collaterali. Ricordate che se non si trattano le vene varicose, il problema peggiorerà e anche non può essere trattato. Quindi prepara questa sandwich miscela e saluta le tue scomode vene varicose. L'ingrediente principale di questo incredibile rimedio è l'aloe vera, oltre a contribuire a migliorare l'aspetto della vena varicosa. L'aloe vera aiuta a ridurre il prurito, il funicolio o la sensazione di calore grazie al suo potere lenitivo e rinfrescante. Pertanto, se le tue vene varicose ti fanno soffrire di queste sensazioni, l'aloe vera ti aiuterà molto. Ora, preparare una foglia di aloe vera fresca e tagliare un piccolo peso, circa 60 grammi da utilizzare per questa ricetta. Quindi, utilizzare un contello e esserare il gel di questo peso di aloe vera, rimuovendo il suo serato verde. Inoltre, otterrete circa 4 cucchiai di gel da questo peso di aloe vera. Tuttavia, a seconda dell'area dell'aloe vera che deve essere trattata, è possibile aumentare il numero di aloe vera di conseguenza. Quando si ottiene il gel di aloe vera, laveglia accortamente con acqua per rimuovere tutte le tracce di lattice, che può irritare la bella per alcune persone. Dopo il lavaggio, mettere il gel in un fruttore e frullare fino a ottenere il gel purea. È possibile applicare questo gel purea direttamente alle aree colpite per eliminare le vene varicose. Tuttavia, se si desidera un risultato più veloce, combinare il gel di aloe vera con l'olio essenziale di menta biberita. L'azione di raffreddamento della menta biberita ridurrà il dolore, stimolerà un buon flusso sanguigno e ridurrà l'infiammazione. Ha anche un aroma piacevole. Hai solo bisogno di aggiungere 5-7 gocce di olio essenziale di menta biberita nel gel di aloe vera per ottenere i suoi benefici. Mescolare bene con un cucchiaio per unire questi due ingrini in una miscela omogenea. La miscela è pronta e ecco come usarlo per le tue vene varicose. Prima di applicare questa miscela alle aree colpite, essere sicuri di esfoliare e rimuovere le cellule morte della pelle per migliorare l'assaiamento di questo rimedio. Quindi massaggiare delicatamente la miscela sulle gambe e su tutte le altre aree interessate con il movimento vesolato. Dopo aver applicato il composto, lasciarlo acceso per 30 minuti prima di risacquarlo con acqua fredda. Questo trattamento è più efficace nel pomeriggio o la sera perché aiuta a alleviare il disagio delle vene varicose che possono essersi accumulate durante il giorno. Ripetere questo rimedio ogni giorno per vedere i risultati più veloci. In caso contrario, provare a farlo almeno 3 volte a settimana. E alla fine, se ti piace questo video, si prega di condividerlo sul tuo sito di Sousa Network. Per ulteriori ricette, si prega di iscriversi al canale?